calcola la concentrazione percentuale massa su massa di una soluzione ottenuta sciogliendo 23 grammi di idrossido di potassio in 150 grammi di acqua quando dobbiamo risolvere questo tipo di esercizi dobbiamo tenere presente sempre la nostra formula che ci dice che la percentuale massa su massa è uguale ai grammi di soluto su grammi di soluzione per cento attenzione quando si dice soluzione si intendono soluto più solvente in questo caso devo andare a individuare chi è il soluto chi è il solvente e da che cosa è composta la soluzione il soluto è questo sono i 23 grammi di KOH soluto 150 grammi di acqua è il solvente cioè è il mezzo in cui solubilizzo i miei 23 grammi di KOH quindi tutta questa è la soluzione cioè la mia soluzione è composta da 23 grammi di KOH e 150 grammi di H2O quindi se devo calcolare la percentuale massa su massa qui metterò i grammi di soluto cioè di KOH e qui sotto metterò i grammi di soluto più solvente cioè 23 più 150 andiamo a farlo percentuale massa su massa è uguale a 23 grammi di KOH fratto grammi di soluzione 23 grammi più 150 grammi e poi per 100 andiamo a vedere quale è il risultato 23 diviso 173 per 100 la concentrazione della soluzione è 13,29% massa su massa